Avrebbero siglato un patto criminale con l'Andrangheta per il rifornimento di cocaina. La squadra mobile ha affermato un florido traffico di droga nell'asse ormai storico tra Sicilia e Calabria. La polizia, su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania, ha in corso di esecuzione un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 21 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze. Le indagini tecniche e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza condotte dalla squadra mobile di Catania hanno evidenziato, scrivono gli inquirenti, l'esistenza di due distinti gruppi dediti all'attività di traffico di stupefacenti, disvelando vere e proprie joint venture criminali tra narcotrafficanti catanesi con esponenti dell'endrine calabresi per la compravendita di cocaina e con personaggi palermitani per l'acquisto invece di marijuana. La misura cautelare accoglie gli esiti delle indagini coordinate dalla procura distrettuale di Catania e condotte dalla squadra mobile sezione antidroga nell'arco temporale ottobre 2015-giugno 2016. Gli arrestati sono stati associati nella casa circondariale di Catania, Bicocca e Piazza Lanza, Roma, Locri e Vibo Valencia. Alla fase esecutiva ha partecipato anche il personale delle squadre mobili di Roma, Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valencia e Trapani, un'alleanza quella dei siciliani e dei calabresi che garantiva fiumi di droga sulle piazze dello spaccio.